Morgan si esibirà durante la notte di Capodanno ad Arezzo, in occasione della festa di fine anno che si terrà a Piazza Sant'Agostino. L'ex leader dei Blu Vertigo ed ex giudici di talent show come X-Factory Amici sarà l'ospite d'onore. Morgan, quindi, coinvolto in una nuova polemica a distanza con l'ex compagna Asia Argento, madre della sua primogenita Anna Lu, 16 anni, ha deciso, almeno per ora, di non commentare la notizia riguardante il pignoramento della sua casa di Monza dovuto ai continui mancati pagamenti degli alimenti per sua figlia da parte dell'artista. La notizia in questione è stata confermata anche dal legale dell'attrice romana, Samantha Duponio, intervistata dall'Ancronos. Poche settimane prima, dopo l'esclusione ufficiale dall'edizione 2018 del Festival di Sanremo, Morgan ha deciso di mettere all'asta tutto ciò che ha riguardato la sua prima vita artistica. Un fine anno non certo memorabile per Morgan che, almeno per il 31 dicembre, si consolerà con la festa di Capodanno di Arezzo. Aggiornamento di Fabio Morasca A confermare il pignoramento della casa di Morgan a Monza è stato anche l'avvocato di Asia Argento, Samantha Duponio, intervenuta all'Ancronos. Il legale ha spiegato che il Tribunale della cittadina ha accolto la loro istanza per il pignoramento dell'appartamento di Marco Castoldinarte e Morgan di Via Adamello per i mancati pagamenti di alimenti alla loro figlia Anna Lu. La casa, dunque, va ufficialmente all'asta. Un duro colpo per l'artista e musicista che di recente aveva annunciato, strano gioco del destino, di voler mettere all'asta tutto il suo passato, sia artistico che personale. Ed infatti da alcuni giorni tramite la sua pagina Facebook tiene aggiornati i suoi utenti dei nuovi oggetti che potranno aggiudicarsi su eBay, in ultimo la t-shirt mitica Sandro P, attualmente arrivata a 500 euro con ben due offerte. Lo stesso Castoldi, nel post social in cui annunciava l'intenzione di voltare pagina aveva spiegato, chiuso un ciclo di vita, mi preparo ad entrare in uno nuovo fatto di musica nuova, voce nuova, corpo nuovo, stile nuovo. Dopo l'ultima doccia fredda, però, si sarebbe chiuso nel silenzio, almeno sui social, così come la sua ex Asia che su Twitter, dove è molto attiva, non ha rilasciato alcun commento. Aggiornamento di Emanuela Longo Un fine hanno tutto da dimenticare per Marco Castoldi in arte Morgan. Dopo l'esclusione dal Festival di Sanremo 2018 e la vendita di alcuni strumenti musicali per cambiare pelle, il celebre artista musicale è veramente nei guai. Ed infatti, arriva in queste ore direttamente dal Tribunale Civile di Monza, la decisione di sequestrare la sua casa per colpa del mancato pagamento degli alimenti all'ex compagna Asia Argento per il mantenimento della figlia Anna Lu. La Corte infatti, ha dato ragione all'attrice che, tramite il suo avvocato Samantha Duponio aveva avanzato la richiesta al giudice, che ha deliberato la sua decisione che entrerà in vigore a partire dal prossimo gennaio 2018. L'ex leader dei Blu Vertigo, dopo una carriera di tutto rispetto si è portato a casa uno scivolone dopo l'altro. Morgan infatti, avrebbe dovuto versare a sua figlia, la somma di 2000 euro al mese ma questo non accadeva dal 2010. Già in passato, proprio Asia Argento aveva palesemente lamentato queste mancanze da parte sua. Lo scorso novembre, durante una intervista per il mattino, proprio Morgan non si era dimostrato affatto clemente nei confronti dell'ex compagna Asia Argento tanto che, il musicista di Monza l'aveva fortemente attaccata affermando, non la denuncerò al tribunale dei minori dicendo che le porterò via la figlia perché una madre del genere non è tanto un buon modello. Aveva esordito in riferimento a ciò che pensava della donna dopo le confessioni sulle molestie subite dal produttore hollywoodiano Harvey Weinstein? Dopo quelle brusche dichiarazioni, proprio la Argento aveva replicato invitando l'ex a portare a termine i suoi doveri di genitore, Marco Castoldi, ha attaccato su Twitter, Padre di mia figlia, non paga il suo mantenimento dal 2010. Gli pignoreranno la casa. Non mi sembra una fonte attendibile. Secondo quanto si apprende dalle carte ufficiali, il pignoramento determinato a Monza riguarderebbe un appartamento da 153 metri quadri e un doppio box da 15,40, per i quali è stato stabilito un minimo d'asta di 328.000 euro.